The suicidal attacks belong to autoimmunity, that's clear enough, but for example also you want to think about President Bush and preventive war, that too belongs to the paradigm of autoimmunity, and so when these two systems meet, you have an explosion. Also, I would like to add another thing, that the economic crisis can be led by the logic of the human being, because the capitalist system works by producing crises, for example, from the beginning. At a certain point, however, this assumerive veneno per produrre attraverso la crisi è diventata qualcosa che tendenzialmente distrugge tutta l'economia capitalistica. So he's saying that the recent economic crisis can be read as part of an immunitary logic, because the capitalist system, as we know, functions by producing crises, and it's been that way from the beginning. At a certain point, the capitalist system takes on, assumes within itself, a poison, and that becomes something that can destroy the entire system, capitalist system. And so that logic is also inside of autoimmunitary paradigms, and who knows at which point that system, that patient, might get better. The U.S. citizen, Anwar al-Awlaki, was recently put on the CIA's capture or kill list, and that decision is being defended in court as a state secret. In fact, that he's a U.S. citizen, do you think that means that the U.S. has taken a further step into an autoimmune response to a perceived disease? And do you think that's going to get even worse as the war on terror continues? Allora, c'è un cittadino americano, I'm sorry, the name? Anwar al-Awlaki? Al-Awlaki, right. Lui è stato messo su questo elenco, l'uno che deve essere catturato e anche ammazzato. E lui è una cittadina, un cittadino americano, quindi questo potrebbe essere letto come risposta a una malattia percepita, e quindi potrebbe essere anche letto... Ma perché dovrebbe essere ammazzato? Perché lui non lo disse. Cioè secondo la... It's because he's considered to be a terrorist, right? Sì, I think that's it. Sì. E quindi qui abbiamo qualcosa come un cittadino americano, anche se questo qua... Che un cittadino americano, anche se terrorista, possa essere indicato come l'oggetto di un'uccisione... Allora ci riporta veramente la logica dell'uomo sacer, no? Di Agambo. Mi pare quasi impossibile immaginare che in America possa accadere una cosa del genere, dal punto di vista legale, no? L'istigazione a uccidere qualcuno da parte dell'arbitro. E così può essere... The idea that an American citizen can be indicated as being the object of a killing really brings us to the homo sacer and Giorgio Agambo's work. And it's just hard for me to believe or to imagine that something like this can happen legally in the United States. So it's kind of a related question, actually. But when I think of immunization, I think of the sort of strategic introduction of difference in order to contain that difference. And so if, in some sense, it's about assimilating a sense of difference to oneself, I wonder what immunity or maybe there is another word for it, but what some sort of concept would look like from politics of the minor. Politics of the... Minor? So, you know, in a sense, like, what happens when it's that kernel of difference. It's from the perspective of the difference that we think. Does that make sense? Not really? Well, no. I'll translate it and maybe... Maybe... Or I can... Back to you. Do you want me to try again with you? Well, I think I got it. Why don't I try? Lei vuole fare una domanda legata alla domanda? Sì. Cioè, si può calcolare, pensa, dell'immunità, lei pensa di un'introduzione strategica di una differenza per, in un modo da contenere, c'è questa differenza. Cioè, in quale senso? In senso di assimilare qualcosa che è differente al senso. Cioè, potrebbe essere di senso. Cioè, e lei vuole legare questa idea di questa immunità, un altro concetto, ha una politica minore, una politica ben minore. Non ho capito bene. Cioè, c'è un senso di teorese. Di politica. Sì, esatto. E quindi, cosa succede a questo nodo, elemento di differenza, quando viene visto dalla prospettiva, proprio dall'alimento, che è diverso? Prima parliamo di questo modo diverso di intendere l'immunità. cioè, come filtro di rapporto con l'altro e di trasformazione. Questo è precisamente un tema di Deleuze. Cioè, quando Deleuze parla di divenire animale, o di divenire donna, che cosa intende? Intende che l'identità non si costruisce attraverso, diciamo, una barriera di separazione, ma si costruisce sempre attraverso un'autodecostruzione del sé. E solamente se pensata nel suo rapporto con la comunità, l'immunità può diventare, appunto, un canale di passaggio per la trasformazione del sé. Però bisogna radicalmente cambiare l'idea comune del generale dell'immunità come la barriera della felicità. Questo sta accadendo in medicina, in generalmente. So, he's picking up on the politics of the minor and in relation to the self and the other and the translation of the other. He says, this is obviously the theme in Deleuze of the becoming animal, the becoming woman. Deleuze understands identity isn't constructed with a barrier or difference, but also is something that comes, it's related to a self and auto-construction, self-construction, of the self. So, therefore, immunity, if it's only thought, if only thought with community, immunitas can become a kind of channel for transforming the self. But in order for that to happen, we have to change the way that we see immunity, not as a barrier, but as something else. And this is happening right now in the field of medicine. There are many kinds of discussions going on about immunity that isn't precisely linked to defense or a barrier. He's asking if he's turned into homo satire yet. No. Other questions? Well, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you.